L'annuncio del comandante dei Pasdaran, il generale Jafari, secondo cui la rivolta è stata sconfitta, è sicuramente anche un atto, un gesto di propaganda del regime iraniano, che dopo una settimana di proteste diffuse in tutto il paese, prova a chiudere perlomeno sul piano della propaganda questa partita. Ma l'intervento del generale Jafari arriva al termine di una giornata di mobilitazione popolare a favore del regime. Il regime ha portato a Tehran e nelle più grandi città del paese migliaia e migliaia di persone, organizzate impeccabilmente dalla macchina che la rivoluzione islamica ha saputo consolidare dal 1979. Il segnale di Jafari è però importante anche perché spiega al paese e al mondo che da oggi i Pasdaran sono perfettamente pronti a difendere il regime, schierati nelle loro caserve o trasferiti in quelle province che erano sembrate più problematiche. Jafari ha parlato di Sfahan, dell'Orestan, dell'Amadan. Nel suo messaggio il capo di Pasdaran ha aggiunto anche qualcosa che paradossalmente può essere preoccupante per il governo del moderato Rouhani. Siamo pronti noi, Pasdaran, a dare il nostro aiuto all'economia. Come si sa i Pasdaran sono il corpo militare che difende la rivoluzione islamica, ma lo fa inserendosi a piene mani nell'economia del paese, dell'Iran, riuscendo ad accaparrarsi i contratti milionari nei settori edilizzi, nei settori del petrolio, hanno banche, hanno assicurazioni. Questo dà loro una incredibile forza non solo economica, ma soprattutto in politica e li rende una delle chiavi di volta per la stabilità del regime che Rouhani ha provato a far evolvere verso una forma più liberale rispetto alle origini della Repubblica Islamica. Bisognerà vedere se nelle prossime ore ci saranno alcune manifestazioni e sicuramente manifestazioni ci saranno. L'unica incertezza è capire se questa messa in guardia dei Pasdaran significa che automaticamente i nuovi manifestazioni verranno contrastate con violenza, per capirci con un uso massiccio delle armi, più intenso di quanto non sia stato fatto fino adesso. Un'altra impressione è quella che per il governo del Presidente Rouhani siano ore delicatissime. Rouhani è stato messo in crisi da queste rivolte perché in qualche modo li sono arrivate da sinistra, sono state agitate da parte di quello che negli anni è stato il suo elettorato di riferimento. Gli stessi uomini, i riformatori presenti in porta all'interno del sistema islamico non sono riusciti a controllare, a prevenire la rivolta, ne sono stati sorpresi e in qualche modo messi da parte. A questo punto il Presidente dovrà recuperare da una parte il contatto con il suo elettorato o con l'elettorato popolare che sembrerebbe essere stato innescato dal populista Ahmadinejad, il suo rivale ex Presidente. Ma dovrà fare i conti ancora una volta. Un Kamenei, un regime che difeso a spada tratta dai Pasdaran è stato pronto a vendere cara la pelle.